Siamo contentissimi, ma moderati. Ecco, domenica è una partita bella per 40 minuti per l'intensità, ma soprattutto per come è stata affrontata nei primi minuti. Questa è un po' la chiave, vedendo anche i precedenti proprio. Sai, perseverare diventa sempre complicato nello sport in caso di risultati negativi. Per fortuna abbiamo iniziato col piglio giusto, però la cosa più importante non è aver iniziato, perché anche con Nozzano eravamo partiti 8 a 2, poi 8 a 4 e così via. Per la prima volta abbiamo reagito quando ci hanno raggiunto, per cui il parziale l'abbiamo fatto noi quando gli altri ci avevano raggiunto. E questa è la prima volta e soprattutto fuori casa. Un dato importante. Ecco, non è mai bello parlare di singoli, soprattutto in una prestazione del genere. Però ti faccio due domande su Zampa e su Calabrese. Giocatori che hanno giocato davvero una bella partita e che si sono fatti trovare pronti. Sì, avevano un compito specifico, preciso, dovevano stare sul loro playmaker, asfissiarlo, per rendergli la vita complicata. Ce l'hanno fatta, per cui bravi. Può essere la classica partita, la classica vittoria che può rappresentare una sorta di svolta in positivo? Non lo so, dovremo vedere con le prossime partite. Abbiamo un test importantissimo domenica, poi abbiamo quasi tutte le nostre concorrenti diciamo in questo momento per la posizione in classifica. Vedremo più avanti. Ecco, parliamo proprio di domenica, arriva Fabriano, squadra costruita per andare in Serie 2. Vedevo il roster, davvero tanti giocatori importanti. E' Garri che probabilmente è il pivot che sposta di più in questo girone. Sì, è il giocatore che nobilita questo girone perché, come hai scritto tu giustamente, è un medagliato parecchio tempo fa, ma è un giocatore che è stato all'Olimpiadi ed era presente per quello che riguarda l'ultimo risultato così prestigioso alla Nazione Italiana dall'idea che è un giocatore di un certo spessore. In questo momento, oltre che essere pivot, è anche uno dei migliori tiratori da tre punti della squadra avversaria, per cui un bel rebus. Ecco, come gioca Fabriano? Che caratteristiche ha? La caratteristica è che è il miglior attacco del campionato ed era, fino a qualche tempo fa, la seconda miglior difesa. Adesso forse magari è la terza, ma si tratta di decimali, non di cose così importanti. È una squadra che ha otto giocatori molto importanti, è coperti in ogni ruolo, ha lunghi grandi come Garri, ma anche lunghi piccoli, rapidi e veloci. Guardie che tirano da otto metri, una delle squadre migliori ha il tiro a tre punti. Insomma, è una squadra che ha tantissime armi, ma che difende, per cui è una squadra pericolosissima. Ecco, cosa chiedi alla tua squadra? Cosa deve fare? Una cosa, l'hai già detta, cioè continuità nella prestazione di Domenica. Assolutamente, perché questa è una squadra che non solo fa parziali, ma fa bottini in ogni zona del campo, per cui rimanere aggrappati alla partita, stare concentrati, assolutamente non dare respiro ai nostri avversari, perché è una squadra che ha così tante possibilità che se le concedi troppe poi ti vanno via.